Per questa giornata dedicata a Dante ho pensato di presentare un manoscritto miniato di cui mi sono occupata alcuni anni fa e lo faccio perché mi sembra un caso esemplare della precoce e diffusa fortuna della commedia dantesca nel Veneto. Si tratta di un manoscritto che oggi si conserva presso la biblioteca gambalunghiana di Rimini ma che è stato realizzato nell'ultimo decennio del 300 probabilmente a Padova. Contiene il testo della commedia accompagnato dal commento di Jacopo della Lana ma anche da altri commenti e contendi a dimostrazione di come si trattava di un testo di studio. All'interno del manoscritto c'è anche un sonetto dove è dichiarato che la copia del testo dantesco e dei suoi commenti fu compiuta da Jacopo Gradenigo e c'è anche una nota di spese dove si stilata dallo stesso Jacopo Gradenigo dove si dà reso conto di quanto era stato necessario fare appunto a sue spese per la realizzazione di questo manoscritto. Si fa per esempio riferimento alla spesa per la legatura realizzata da certo Bidello Cerbero che viene documentato a Padova tra la fine del 300 e gli inizi del 400. Chi era Jacopo Gradenigo che così direttamente si impegna per la realizzazione di questo codice. Era un nobile veneziano attivo nella pubblica amministrazione. Sappiamo che è stato podestà in città diverse e in particolare è stato a due riprese e podestà di Padova tra il 1392-1393 e poi ancora tra il 1399 e il 1400. E qui poteva entrare a contatto con il vivace ambiente dello studio Unpatavino e con la corte, la raffinata corte carrarese. La sua passione per Dante è documentata oltre che da questo manoscritto per la cui appunto realizzazione si impegnò in prima persona anche da un'altra notizia. Sappiamo che nel 1417 comprò dai beni del defunto Pietro Cornaro un ritratto di Dante, una figura Dante spicta in una tavola. L'interesse per il manoscritto attualmente a Ri nella biblioteca di Rimini è legato anche alla sua illustrazione miniata. Un'illustrazione miniata che si deve a due diversi artisti. A un miniatore di cultura bolognese che esegue il frontespizio che vedete è la prima miniatura, la prima illustrazione del testo dantesco, poi di seguito l'intervento è di un secondo miniatore, come vedete qui, che illustra il procedere della narrazione dell'inferno in tabelle piuttosto ampie, orlate di rosso, dove le figure sono rese a penna e ad acquerello. Si è discusso in sede critica su chi sia l'autore di queste miniature. Si è sostenuto che ne possa essere autore lo stesso Jacopo Gradenigo, anche sulla base di quanto riporta al già citato sonetto, dove si dice che egli ha dipinto uno e altro quaterno, cioè i due fascicoli che effettivamente all'interno di questo manoscritto sono miniati. Nello stesso tempo però si è osservato come queste miniature mostrano una abilità che fa più pensare all'intervento di un miniatore professionista e si è fatto il nome di un miniatore importante sulla scena veneziana Cristoforo Cortese che qui sarebbe ai suoi inizi. Comunque nell'uno e nell'altro caso c'è stato per appunto la figurazione di queste miniature un controllo diretto di Jacopo Gradenigo, un controllo del riscontro delle immagini in rapporto al testo dantesco. Mostro soltanto due di queste cartelle figurate, quella dove si vede Dante e Virgilio nell'atto di parlare fra loro sotto il turbine che accoglie i lussuriosi. E poi questa scena dove si vede il colloquio di Dante e Virgilio con Paolo e Francesca, usciti dalla schiera dei lussuriosi, come dice Dante, quali colombe dal desio chiamate.